8 febbraio 1925 Nasce a Boston Jack Lemmon, consacrato da Hollywood nel 1955 che gli assegna un Oscar per la sua interpretazione del guardia marina in Sein Pulver in La nave matta di Mr. Roberts Visserà il successo nel 1973 come migliore attore in Salvate la tigre diretto da Billy Wilder, recita in A Qualcuno piace caldo L'appartamento, Irma la dolce e non per soldi ma per denaro che segna l'inizio del suo dalizio trentennale con Walter Matthau La coppia più divertente del grande schermo farà ridere e sorridere in numerose pellicole dalla strana coppia a That's Amore Lemmon muore il 27 giugno 2001